buongiorno a tutti e benvenuti in un bellissimo episodio sempre con questa mappa in questa locazione e vai con nuova arma che avevo già sbloccato poi il prossimo episodio ragazzi lo farò comprando una nuova arma se posso non tanto per i soldi perché i dindini ce li ho ma più altro per come si dice per il livello che non so se ha bombe a volontà bellissimo è stato bello rivederla e mori che stronzo ha vabbè c'ha anche i capelli che sparano le robe io allora come cacchio faccio vincere contro quello lì slash quella lì e questi si sfondano e questi si sfondano l'ho splattato io yes da dietro da dietro da da niente abbiamo trovato lava mingia questo che è andato nelle linee d'amiche vai vai mi sparo flash le sta arrivando uno da dietro attenzione e che puttana ci starebbe ci starebbe questa cosa che non mi fanno toccare per terra sti facce le merda becca ghista va e divertiti pure e che puttana che mi ha fatto il pezzo ma c'era cosa già verde come cacchio fatto vabbè però restare che succedono quando è da tanto che non giochi a splatoon gli altri ovviamente crescono di livello e te sfondano le chiappe niente qua in questa lobby siamo capitati nella lobby terminator con le persone mamma mia che ti fanno le chiappe in una maniera incredibile becca sta bomba ok mangalo un minuto oh e poi morì pure te detrizzi mortacci tua e non si possono fare quei pezzati vabbè palombella morbida guarda che ci vengono dentro si sposti lei però mi propinco nelle linee nemiche sti babbuini schifosi e vaffanculo adesso mi metto a chi ho lasciato le bombe allora eh mortacci tua no no avevo la cazza delle specialità no me tolgono tutto me tolgono tutto non è possibile morco miseria oh sono vivo sono vivo non si sa come speriamo volontà mamma mia stavo facendo uno sfaccello qua alla fine mentre non contano un cacchio e abbiamo leggermente perso da un punto di vista molto diciamo rosesco abbiamo perso in una maniera incredibile sto rosa da merda schifo perché non avevo secchio ovviamente perché se avessi avuto secchio qua stavamo parlando direttamente proprio di un'altra cosa proprio e si salimi però porca mignotta che devo arrivare a livello 10 con la testa pelata verde alla prossima partita eccoci qua 85esimo episodio di fida dove tutte e due le partite sono al tinto tinto in giusto posto siamo ancora contro detrizi da merda sta schifosa e mo te vengo a prendere mo proprio guarda mo te faccio del male fisico sto bo me metto qua sopra e spammo bombe spammo porco lo demonio spammo bombe e scusate sto e no le devo essere proprio carichissimo come cacchio fa quello la ha dovuto realizzare la specialità o che c'ha qualche cosa per la carica veloce della specialità perché mamma mia me metto qua spammo bombe io non so cosa dirvi spezzalitissima vai da qua sopra si fanno i grandi casini le guarda quando è bello lo giallo oi oi cosa adesso vi sfido a venire qua bastardo t'ho visto oi perchè mai colorato qua del blu no carica la mamma mia no fanculo però orco demonio detrizi qua c'ha non lo so c'ha la mamma di quel colore lì viola o quello che è ovviamente perchè non è che posso capire bene che cacchio del colore è quello lì eh è la puttana ma fammi vivere pablo pro eh ti sembra il modo ti sembra il modo devono giocare anche gli altri eh brutto schifoso lulido eh bomba e che minchia di male vettra che ti metti dall'alto a lanciare le specialità però eh non si fanno queste cose mi devo rimettere a spammare bombe che cacchio devo dire ah no e vabbè misterca parente dei mistico vabbè avevamo incominciato così bene adesso andiamo a finire che andiamo a perdere un'altra volta porco lo demonio ci sfondano basta non si fanno vivere puttana Eva io faccio una cosa così no e passo di qua no perchè di qua loro si credono no affa che cacchio è oh ma che cacchio è qualcosa di bello non so cosa sia però e mi ha splattato però non è morto non è morto il cacide du nonno io zellizia fammi veni bomba al volo ecco che in tutti i posti potevo lanciare la bomba proprio lì no sotto qua no ah devo entrare in mezzo spero a bombe potrebbe essere un cazzo e la madocca è mega botta incredibile dai colorate colorate e no abbiamo perso anche questa mi sa tanto cari miei amici ascoltatori molto potentemente abbiamo perso questa partita è un pelo di meno di prima però vabbè e che ce vogliamo fa brutti schifosi uridi noi la vinceremo una partita scandali di uomini detrizi la merda della liga rompe i coglioni con l'aerografo che è la mia stessa arma e io non so buono a fare le robe e vabbè sapete che vi dico con la testa pelata gialla ci andiamo a fare un'altra partita che momento quella là adesso non so le squadre vediamo magari è con me detrizi sti sia con me detrizi che sei fortunato perché sei ancora contro di me soprattutto perché una cosa che boh dovrebbero sistemare ovvero il fatto che durante la lobby non puoi cambiare l'arma devi proprio uscire e andare nello spogliatore non puoi farlo durante la ricerca di una partita perché se se potevo ovviamente cioè non ti dicevo neanche che puttana e che paura minghia mi sono caccato addosso in una maniera abnorme e non ti dicevo neanche ovviamente le grandi kick ti facevo brutta schifosa se avessi avuto il cazzo de gozo de secchio ma disarebbe più attiviamo subito tutto ma qua sono quelle palle che lanciate in una maniera spaventosa oh detrizi non è che adesso perché sei in squadra con me te fai schifo eh scusa dobbiamo pur vincere la partita dov'è detrizi ah mo invece non sei più buona perché porco demonio tutta la volta che scelgo qualcuno per spawnare me spawnano morti non lo so basta con sto figa da rosa ha rotti i coglioni viola is the new rosa vai detrizi to immediatamente come si dice vendichella hai visto che secchio spacca le chiappe perché il buon zampi l'ha capito la storia e va sanculo dai spawnami palombella morbida quindi dovrebbero sistemare questa cosa e mettere l'opportunità tra una partita e l'altra di cambiare la mamma te de ah no la mamma mia di arma perché non si può vai bombissime abbombazza no abbombazza no abbombazza no no ti sarebbe piaciuto aiuto perché mi giro proprio sempre tutte le volte nei momenti più stronzi del mierda che capita in tutti i giochi tra l'altro e vabbè io spawno su quelli morti sciabolata incredibile proprio dalla mamma mia non c'è niente da fare il secchio è l'arma del dios e l'arma ce l'ho fatta ok perfetto grazie bomba scandalo d'uomo grande saltello ovviamente come avevo già detto prima se si becca l'uomo col coso con il secchio si fanno le grandi bruttissime fini perché ovviamente vai ah dimmi che muore jump ed è merda che salta il mio cacchio di bomba whirling di sto cazzo di culo che tra l'altro adesso partita finita finisce anche il video spero che ovviamente il video vi sia piaciuto e miga miga stiamo vincendo perché ci abbiamo detrizi ovviamente perché ce l'abbiamo nella squadra nostra non è vero è soltanto una bugia se abbiamo vinto perché mi sa tanto che qua ci hanno palpato ampiamente e abbiamo vinto non per merito di detrizi o come minchia si chiama spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima con una nuova incredibile episodia e tra l'altro con una nuova arma che andrò a sbloccare livello 8 ci stiamo avvicinando e noi ci vediamo al prossimo episodio a Grazie a tutti.